Sensibilizzare i più giovani ma anche il mondo imprenditoriale su come combattere e prevenire l'usura e il racket, questo è l'obiettivo della Camera di Commercio di Caltanissetta che ha deciso di puntare i riflettori su queste problematiche, avviando uno sportello della legalità volto ad offrire informazione, consulenza, assistenza e sostegno alle vittime o possibili vittime di questi fenomeni, oltre che di accompagnamento agli operatori economici nella burocrazia amministrativa e nella legislazione del settore. Sportello presentato in occasione del seminario Usura e racket, fenomeni da combattere e prevenire, dal Vice Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Valenza. Nel corso dell'incontro moderato dal giornalista Giuseppe Martorana sono intervenuti il giudice Giovanni Battista Tona, Umberto Di Maggio del coordinamento Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie e Stanislao Steni di Piazza responsabile del progetto Geremie Sicilia di Banca Etica. Se non si ha il senso del denaro, anche il senso della legalità che ne dovrebbe derivare diventa difficile, perché il fenomeno dell'usura, il fenomeno del racket è esattamente il frutto del fatto che si perde qual è il vero senso del denaro. Il senso del denaro è nelle parole di Libero Grassi che diceva che lui non pagava il pizzo perché quei soldi che aveva guadagnato non aveva motivo di darli a coloro che gli chiedevano il pizzo. E troppo spesso l'estorto considera l'usuraio un angelo, una persona che lo salva da un momento di particolare bisogno. E tutto questo accade anche perché troppi istituti creditizi chiudono le porte, troppe banche chiudono le porte a commercianti e a famiglie che hanno bisogno di sostegno per le proprie attività. Ecco, questo è il fenomeno delle mafie in questo contesto che, lo ripeto, non è tanto diverso da altri contesti geografici in questa nostra Repubblica.